Benvenuti su meteogiuliacci.it. Oggi martedì 28 gennaio sarà una giornata di transizione tra una perturbazione che ci lascia ed una che è pronta a sopraggiungere e portare un nuovo peggioramento. Andiamo a vedere questa situazione sull'immagine del satellite anche per capire quello che succederà nei prossimi giorni. Vedete la perturbazione numero 9 è questa che ancora interessa le regioni adriatiche che si sta spostando verso Levante, poi abbiamo questa fascia in cui il cielo è poco nuvoloso, appunto questa pausa che preannuncia l'arrivo della nuova perturbazione che è questa qua, la numero 10 del mese di gennaio che domani porterà un peggioramento sulle regioni settentrionali e sulle regioni centrali con la neve fino in pianura soprattutto sul Piemonte. Ma quello che è notevole da rilevare è questa massa di aria fredda, aria polare e marittima che nei prossimi giorni affonderà proprio sul nord Africa. Andando a determinare un vortice di bassa pressione in prossimità dell'entraterra africano, questo vortice di bassa pressione poi nei prossimi giorni si muoverà verso l'Italia e nel fine settimana attiverà correnti di scirocco che porteranno quindi ancora piogge ma un clima dalle caratteristiche più autunnali. Andiamo a vedere intanto il tempo per la giornata di oggi, vedete la nuvolosità che ancora insiste sul nord-est, lungo il versante adriatico, sul sud Italia dove avremo ancora delle precipitazioni sparse e anche occasioni per nevicate fino a quote quasi pianeggianti sull'Emilia Romagna ma in esaurimento, schiarite più ampio invece sulle regioni di nord-ovest e lungo il versante terrenico. Le temperature saranno in pratica stazionarie su valori per lo più comprese tra 5 e 7 gradi al nord, 5 e 10 gradi al centro, 10 e 14 gradi al sud sulle due isole maggiori. A concluso vi ringrazio per l'ascolto, per ulteriori aggiornamenti vi invito a consultare